A livello di squadra è stata una partita un pochino strana, abbiamo avuto tantissime occasioni per chiuderla anche nel primo tempo, dove potremmo fare direttamente le 4 metri al primo tempo, invece abbiamo buttato tantissime occasioni che hanno permesso fino al 75esimo dove abbiamo fatto i 5 punti di tenere la partita chiusa con il risultato, quindi di averli tenuti un pochino in partita. Quindi questo secondo me è stato un po' un punto negativo perché siamo stati secondo me dominanti e si è visto che era una partita che avremmo vinto dal primo minuto fino all'ultimo, però non siamo stati così precisi da portarla a casa e da chiuderla subito nel primo tempo che come detto abbiamo avuto le possibilità per farlo. Sì, alla fine è stata la meta finale, è venuta comunque verso la fine, negli ultimi 2-3 minuti, abbiamo chiuso i giochi per i 5 punti, ci ha messo in una posizione di classifica ottima, però sì, non dovevamo forse trovarci in quella situazione là, però sapevamo che potevamo farlo e che l'avremmo fatto, quindi è arrivata un po' troppa fatica, però come hai detto, con un po' di perseveranza ce l'abbiamo fatta. Da loro è stata una partita che anche là abbiamo buttato via tanto, penso e reputo che siamo stati anche là, abbiamo buttato un'occasione per vincerla, quindi è una squadra che possiamo battere ed è un'opportunità che non possiamo sprecare. Oggi loro non hanno fatto i 5 punti, quindi siamo, come hai detto, in corsa per avere l'ottavo di finale in casa, che è un reputo fondamentale quando si parla di competizioni come Challenge Cup e Champions Cup, che fa tutta la differenza del mondo, soprattutto col pubblico che abbiamo, che giocare qua a Monico è un effetto diverso, quindi sarà vitale, vincere la Coppa di Italia, sono sicuro che se facciamo le cose fatte bene, stiamo nel nostro sistema, è una partita che possiamo portare a casa, quindi mi aspetto una settimana dove cureremo un po' più il dettaglio, dove andremo a vedere cosa non ha funzionato troppo, cosa non ci ha fatto chiudere la partita, appunto quando potevamo farlo, però come ho detto sento e vedo che la squadra è pronta per quella partita là. Ma dai sì, quella considero la seconda partita, perché la prima purtroppo è durata 8 minuti, quindi però ecco, a parte questo ho trovato un ambiente onestamente che non mi aspettavo, sono davvero felice di essere qua, sono davvero felice del modo in cui si lavora, di tutto lo staff, di come siamo seguiti, di come mi aiutano, di come mi hanno aiutato a introdurmi nel sistema di gioco e soprattutto con i compagni, tanti li conoscevo già, ho trovato amici di cui ho condiviso tante esperienze, tante partite in passato, quindi integrarmi nella squadra non è stato difficile, però comunque non era scontato, mi sono confrontato con persone che non conoscevo, sto cercando di farmi conoscere, di tra virgolette apprezzare anche un po' da tutti, quindi a livello di come ambiente, è stato un ambiente, è un ambiente veramente positivo, veramente che ti stimola, come avevo detto quando ho firmato qua, un ambiente che ti stimola a far meglio e che comunque ambisce in alto, perché questo è quello che stiamo facendo, ammendo in alto, puntando in alto, vincendo partite importanti e siamo in lizza sia per appunto, anzi siamo già qualificati per le fasi finali della Coppa Europa e siamo ancora in lizza per giocarci i playoff della UFC, quindi è un ambiente super positivo e super competitivo.